Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, questa sono io appena a steia e vi porto con me nella mia giornata di Pasquetta che andiamo a fare la grigliata. Se siete nuovi iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ma prima iniziamo con la colazione, il mio pasto preferito. Oggi voglio provare insieme a voi le fisarmoniche, questa è una novità della mulino bianco, fatemi sapere se voi l'avete provato e se vi sono piaciuti, fatemelo sapere nei commenti. Qua sto preparando il mio caffè, io amo il caffè americano, se anche a voi piace la colazione dolce lasciate un bel like, scrivetemi nei commenti se a voi piace la colazione dolce o salata. E questo è il mio caffè, è la tazza che è gigante. E invece le merendine sono mini, come al solito. Comunque questa è la fisarmonica, uguale all'immagine. Beh, l'aspetto sono belle, c'è una cremina all'interno, insomma ora le provo. Qua che bevo il caffè ed è caldissimo, è bollente, mi sono bruciata. Comunque proviamo questa fisarmonica, il profumo è buono, raga, il profumo è buono, ma il sapore sarà lo stesso? Beh, comunque è molto soffice. E se devo essere sincera non mi è piaciuto, già si vede poi anche dalla mia faccia e diamo un voto 6, da 1 a 10 6. E non è dolce, e poi c'è questo orzo, crema d'orzo, insomma non mi è piaciuto. Qua che finisco la mia colazione. E ora prepariamoci. Qui c'è un vento fortissimo. E ora farò un video sulla skincare routine, ditemi se siete interessati per vedere i prodotti che uso sono quasi in ritardo devo essere pronta già più o meno alle 10-15 e sono le 10 meno 10 raga per fortuna mi devo truccare perché sto andando insomma tipo sto andando a fare picnic faccio il sole sono tranquilli non c'è bisogno del trucco voi vedrete tutti i miei video come sono al naturale sotto c'è questo brufolo gigante e sta lì non lo troppo tonico guardate io non mi trucco però non mi devo mai dimenticare di fare la mia skin care ho visto che sono in ritardo perché non so cosa mettermi ancora dunque voglio restare comoda per ora metto questa crema spray per fare veloce metto sempre questa crema di Dr. Jar non so come si pronuncia e poi componate contiene ciramide che dovrebbe proteggere la pelle da smog polvere insomma e la mantiene pure bella idratata va bene così intanto mi vado a vestire tuta pantaloni tuta e maglietta un top maniche corte e giacca jeans come scarpe metterò le birchestock voglio mettere anche queste calze nuove di calzedonia che l'ho comprata appunto per le birchestock per questo l'ho comprata chiare perché la scarpa è scura se era di colore chiaro alle aver comprate scure le calze non lo so raga l'outfit non mi convince perché sembra pesante cioè io sento caldo adesso non so se portare pantaloncini è top perché c'è troppo caldo comunque le birchestock con questi pantaloni non mi piacciono tanto non so non ci stanno secondo me stanno meglio con un pantalone largo la powerbank portafoglio fazzoletti igiene in sette mani occhiali da sole e anche il cappello però non c'è sole c'è solo vento non so se portare i pantaloncini perché c'è caldissimo comunque sono già in tempo sono pronta per scendere vi faccio vedere visto che non mi trucco però metto qualcos'altro metto questo che è una protezione solare anche se non so se ci sarà tanto sole comunque la porto con me la metto nella borsetta ha un profumo buonissimo e qua c'è lo specchietto e poi la cosa che mi piace è che è trasparente perché non so se ci sarà sole la cosa si può mettere ovunque come ho tante uova di cioccolato le porterò un po' per i miei amici perché sono troppi per me c'è un sole ci sono 30 gradi non riesco ad aprire gli occhi per quanto c'è sole porterò i pantaloncini perché c'è un caldo cioè questi qua sono troppo pesanti cavolo la batteria di questa fotocamera però ho portato la ricarica si sciuppa velocemente comunque ho messo anche la protezione 50 perché c'è troppo sole comunque sono pronta sono arrivati che c'è che c'è che c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.